Benvenuti a tutti. Il magico mondo del passato che ritorna, che sono i rami di bosnia, che sono tanto sconosciute e più, ma che effettivamente sono una realtà dal 2006 o meno. Sì, sì. E quindi stasera saremo qui per parlarne, per promuovere dei pellegrinaggi in quella zona, perché con una modica cifra si può andare in un posto che è lì dietro, molto comodo all'Italia, perché basta passare all'Adriatico, e si può andare in un posto dove si scoprono, sia dal punto di vista fisico che spirituale, dei benefici incredibili per le nostre vite. Quindi passo subito la parola a Barbara e parleremo un po' dell'argomento, poi condivideremo e faremo domande e risposte, altra gente verrà, perché adesso l'orario è un po' quello che è, ma questa puntata verrà registrata, quindi poi verrà rilasciata a tutti i partecipanti e non solo, quindi anche in futuro chi vedrà potrà ascoltare. Barbara, cosa sono le piramidi bosniache? Chi siete voi? Ma allora, due domande molto grandi. Ciao Bruno. Ciao Luca. Ciao. Ciao. Come state? Bene. Sto parlando sul terrazzo perché ho una connessione pessima all'interno, quindi se mi sentite male mi spiace. No, no, vai tranquillo, ti sentiamo bene. Ok. Sono tornato ieri sì, stanotte da Visocco. Infatti. Le valigie. Io ho qua un sasso di Visocco e il gatto è venuto e ha iniziato a giocare col sasso. Quando è partito lo zoom. Sì, grazie. Ok, gioca col sasso di Visocco, va bene. Allora, Cristiano ci chiedeva, no? Cosa sono le piramidi di bosniache. Allora, premesso che si possono raccontare tante storie e si possono raccontare tante impressioni, per cui io non ho una formazione archeologica e approfondita. Su questo comincio a dire qualcosa per aprire un po' le danze. Poi si può unire con Dorinca che ha un'esperienza sul campo più, di più ampio spettro e più lunga durata. Le piramidi bosniache in primis sono una scoperta appunto a livello archeologico molto interessante perché io mi ricordo che ho letto tanti anni fa su una rivista particolare dove viene raccontata solo l'archeologia che non fa parte dell'archeologia convenzionale riconosciuta ma dove si parla di scoperte, eccetera. Kerai, hiera, hiera, non so la pronuncia. E mi ricordo che già allora, solo leggendo, ho avuto proprio un wow, allora scoperta. Allora c'è ancora qualcosa da comprendere. Però per tanti anni poi non ne ho più saputo niente. Finché non sono andata in questo viaggio, che mi è capitato per caso perché mia madre partiva per questo viaggio. E dove ho preso questa foto? Allora si potrebbe dire questa è la foto presa da una piramide. Quindi quello che si vede di fatto non è come in Egitto la piramide effettivamente di costruita, se vogliamo. Però ci sono delle strutture piramidali che sono delle colline, sono delle altirilievi, insomma. E poi ci sono delle strutture che vedete nell'immagine, nello sfondo di Kondorinka, che sono dei tunnel molto interessanti. Tutto questo è stato poi analizzato, eccetera, e quindi si sono potute definire delle costruzioni a struttura piramidale, dei punti energetici, delle camere interne, dei tunnel. Ma non è riconosciuto ufficialmente, almeno adesso comincia a essere riconosciuto, ma non era stato riconosciuto ufficialmente per un sacco di tempo, perché le datazioni risultano alterare la storia convenzionale. Ma noi, poi, ci piacciono queste cose, credo. Immagino, chi si sente attratto da queste informazioni piace andare a mettere in dubbio tutte queste convenzioni. E quindi, voilà. Datate più o meno 40.000 anni fa, no? I tunnel, scusa, intervengo. I tunnel, le datazioni 30.000, 32.000 prima di Gesù, e la piramida è sui 15.000, dunque 10.000 anni prima di Ghisè. E' già abbastanza per infieciare tutta la storytelling accademico. Esatto. Quindi, poi la storia della fondazione. Adesso io non entro in questi particolari che si possono trovare online, no? Però comunque è stata portata avanti, ci sono dei volontari, qui abbiamo anche Bruno, Condorinca è stato volontario a suo tempo, per tanti anni, Bruno che è appena andato, quindi ha questa esperienza. Si può andare come volontari allo scavo dei tunnel o alla pulizia. Insomma, quando si trovano degli elementi che rappresentano la presenza di questo complesso, allora si fa un'azione per riportarli un po' alla visibilità, senza distruggere l'energia. Quindi, si potrebbe dire che si può fare a parlare di una cosa che poi particolarmente sono dei conglomerati e quindi alla fine tu vivi, vedi dei sassi, delle rocce, ma capisci che non sono effettivamente delle rocce come standard. E soprattutto entriamo poi in un campo che lì va sulle frequenze, sul sentire. Abbiamo misurazioni che hanno fatto in Bovis, con questa scala che misura queste alte frequenze, quindi anche lì ci sono diverse misurazioni, hanno misurato diversi punti in cima alla piramide, i punti nei tunnel, insomma, la parte archeologica è una parte, diciamo. E poi c'è la parte esperienziale. La parte che negli anni, con l'esperienza dei volontari prima e poi di tutte le persone che andavano a Visoco, sono di guarigione, di pace, ritrovamento di sé, grande energia, insomma. Qualcosa che ti blocca un attimo la parte irrazionale, ti dice ok, sono davanti a qualcosa altro. Perché questo è un po' l'effetto che si riscontra, insomma. Ci sono gruppi che vanno proprio a fare meditazioni nei tunnel, per esempio. I tunnel vengono aperti quotidianamente e tu puoi veramente entrare a lungo. Adesso non ricordo, per le questioni pratiche, chilometri, metri, eccetera, poi chiediamo meglio a Luca perché è esperto. Io cammino, ti puoi perdere, sono abbastanza intricati, di diverse altezze. Hai una temperatura costante che sono 12 gradi, 12 gradi e mezzo. In estate, inverno, vai in profondità e hai aria respirabile, aria fresca. Non è stato fatto nessun lavoro per creare questo, è la proprietà che c'è lì nel tunnel. Scavando vuol dire, scavare vuol dire estrarre quello che viene finché non si manifesta la struttura. Ma questo, magari chi ha scavato lo sa dire meglio. Io non ho fatto questa parte, magari piacerebbe. Io ho dato un po', inizio con una cosa un po' generica, così, giusto per introdurre, eccetera. Visioni, sogni, tutte cose derivanti dal permanere lungamente in quel posto. Ok, sì. Posso fare una breve carrellata, visto che io sono andata solo tre volte, eppure mi sembra di avere una connessione da non so quanto tempo, così magari spiego. La prima volta, ok, sono andata così, grande entusiasmo, mi chiamava, ma, boh, così, la scoperta. È bello, chiama. E nel momento che sono riuscita ad entrare nei tunnel, nonostante diversi turisti, la presenza di mia madre, che comunque era molto forte, ho cominciato subito a sentire delle energie diverse, a seconda di dove camminavo nel tunnel, molto chiare, rispetto al solito era molto... La differenza era chiara. Ho iniziato ad avere delle immagini, delle percezioni molto intense. Proprio... Potrebbero chiamare visioni, download le chiamo ogni tanto, perché appunto ho ricevuto informazioni. Ho ricevuto informazioni che ricordo tuttora. Cioè, non è che si sono perse. Si sono solo andate ad aumentare e accumulare tutti i vari pezzi di un immagino immenso puzzle. E quindi non vedevo l'ora di tornare. Un po' di ostacoli a ritorno, ma ce l'ho fatta. Sono tornata e quella volta una cosa continua. Cioè, ogni punto era una informazione, informazione, tant'è che ho iniziato a disegnarle. Ho iniziato a disegnarle e in particolar modo c'è stato un giorno in cui sul tumulus, che è un'altra delle strutture presenti, una collinetta, diciamo, una collina tonda, quindi non piramidale, ma una sfera, mezza sfera. Sono entrata in una meditazione appena sono arrivata in cima, in piedi. Mi sono... Boh, non lo so, ho iniziato a avere informazioni. Non vi parlo delle informazioni perché chiaramente quelle sono anche personali e prima di una condivisione è meglio fare l'esperienza. Così non ci si influenza ma è successo che sono stata a 20-30 minuti così e mi è stato detto eh, non sapevamo cosa fare. Vabbè, ok. È finito quel momento. Mi siedo sul tumulus e arriva Luca con un altro gruppetto e insomma siamo entrati subito in connessione e ci siamo messi a parlare e lì ci siamo tornessi e da lì abbiamo fatto un'esperienza di... molto bella con un gruppo per andare all'esplorazione degli steci, questa altra struttura che si trova nella zona che è come una enorme cassa panca un'enorme arca di pietra normalmente sono un pochino interrate ma emergono sempre sulla superficie quelle che ho visto io è stato molto interessante molto bello poi c'era anche un bimbo piccolo è stata una bella esperienza e anche lì cioè ci sono proprio dei luoghi dove io sentivo nettamente la frequenza mentre ci avvicevamo al luogo c'è stato proprio un punto dove è sembrato di fare un salto di frequenza cioè la frequenza da lì in poi si alzava e e quindi voilà dopo siamo rimasti in contatto ma comunque ci sono sempre degli ostacoli al ritorno ma c'era sempre la chiamata ci sono stati dei sogni mi è tornato tante volte in sogno in meditazione o mi sono tornate le informazioni che ho ricevuto anche quando ho avuto delle come chiamarle quando aiuti qualcuno con la guarigione quando faciliti una guarigione con qualcuno ho sfruttato delle informazioni che ho ricevuto proprio lì bene appunto funzionato bene quindi quindi per me è una bella esplorazione in tutto il campo del sottile l'effetto positivo di guarigione personale magari ecco io adesso non avevo una cosa specifica magari però quando hai anche una tematica specifica vedi esattamente il miglioramento io l'ho sentito più proprio a livello di centratura di espansione di energia però sì anche dei sintomi che avevo quindi mi si sono nettamente alleviati sintomi da matrix da gabbia non so adesso vi lascio un po' la parola perché così non so se io ho fatto mia introduzione intuitiva e quindi poi andiamo avanti ma e poi c'è stato l'ultimo viaggio dove sei ripartita dieci giorni fa ah sì giusto dove ci siamo trovati dopo due anni e dunque lì è veramente fresco con te e cosa hai scoperto in questo ultimo viaggio che hai fatto dieci giorni fa eh mi sono scoperto la mia essenza più profonda no quella che che sento connessa non so mai come chiamare perché i nomi sono tanti senza se ormai ci sono diverse scuole io non so mai qual è l'indicazione giusta però la sensazione è di essere proprio più posata centrata in se stessa in connessione più in chiaro su tutto insomma perché se sei nel tuo centro è piaciuto è piaciuto l'ultimo viaggio eh sì che mi è piaciuto l'ultimo viaggio poi ho avuto la fortuna di avere una guida tutta per me il luogo quindi sono tornata in tutti i luoghi con con drink e sì poi a proposito del nome ho iniziato ad aggiungere il nome Amaya perché questo è anche parte di questa scoperta di sentire di poter entrare in questa nuova energia di questo di questo me di questo se di questa e e e quindi sì un dialogo appunto diverso continuato la cosa poi particolare è che comunque ci siamo trovati dopo due anni ma sembrava che avessimo parlato anche continuamente cioè per qualche ragione non sembrava veramente che fossero passati due anni ecco la sensazione temporale è un po' alterata la storia sembra quasi continua come dialogo e come dicevamo prima di entrare in diretta quando ci sono certe circostanze di vita degli individui chi è di una certa tipologia animica spirituale non si danno un appuntamento ma ci si trova nel punto dove ci si deve trovare e c'è la sensazione ricorrente di conoscersi anche se magari è la prima volta che ci si incontra dal vivo in questa vita lì e c'è la sensazione di conoscersi da una vita questa cosa da un punto di vista pianellistico archetipico dal punto di vista di un inconscio collettivo che io posso aver investigato in dieci anni di ipnosi e psicanalisi dico che vite parallele di ognuno di noi che ognuno di noi ha che sono qui famosi anche sogni vividi che ogni tanto si fanno possono ricondurre certi individui a rincontrarsi anche in sta vita perché già in altre vite hanno fatto o fanno cose poi ci sta che se ci si trova in un posto come quello dove non ci vai per caso non ci vai per turismo ci vai se sai che esiste e se sai che senti una chiamata e ti capita tra virgolette per caso di doverci finire e allora lì trovi gente con la quale scopri di avere interessi di avere affinità di avere ricordi ancestrali e con questa spontaneità come punto di partenza si creano relazioni meravigliose che trascendono il relativismo materico e duale di una vita standard quindi ci si sente bene ci si scopre che la natura incontaminata è lì e ci si può andare a vivere Luke sta lì tanto tempo all'anno vuole andarci a vivere e in campagna lì in Bosnia e Herzegovina volessi comprare un terreno e farci una casa costa anche poco è facile farla quindi volere potere più che altro sapere e potere e soprattutto va conosciuto il lato esoterico di tutto questo viaggio perché non è solo l'esperienza di andare lì a vedere un edificio un rudere un qualcosa che avrà 12.000 anni o 30.000 anni che rimane fino a se stesso anche il Colosseo è vecchio però non è che ti dà le esperienze le sensazioni le guarigioni che sono state riscontrate come quel posto lì dove quel complesso di strutture che ci sono quelle tre piramidi maggiori più quella più piccola dell'amore più chissà cos'altro che c'è l'intorno lì sotto che non si sa e sono posti che sono stati misurati con i rilevatori e si è dimostrato mutamenti elettromagnetici frequenziali l'acqua muta la luce il tempo il tempo rallenta ci sono una marea di cose che sulla vertice della piramide lo saprà Luca voglio che ne parli lui se vai sul vertice perché poi le piramidi io un pochino non voglio però le piramidi non è che sono strutture fatte così per un'estetica sono delle macchine sono costruite progettate alla perfezione numerica di solito integrano parlando di quelle di Giza ma lo stesso si può dire per quelle mesoamericane sudamericane quelle cinesi quelle russe sono da tutte le parti sicuramente quelle bosnia che non fanno eccezione riportano con loro il numero di depero la sezione aurea il 137 sono tutte cose che dimostrano che non sono strumenti musicali e basta non sono oggetti energetici e basta non sono sono tante cose e queste qui che sono in gigantesca a quanto pare sono le più grandi di tutte finora trovate sulla terra mi pare no Luca sono le più grandi perché in Cina ce ne sono tantissime però la più grande credo che sia questa della Bosnia quella del sole sì e poi probabilmente ce ne sono altri che non si sa che non sappiamo ancora quello che si sa è che qua a Visocco passa qualcosa c'è questa chiamata che ti viene che ok ah voglio scoprire da me vieni o vai volontario scopri da te giri qua 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 c'è le turistiche della fondazione visiti i posti e poi c'è quello che ha detto Barbara Maya le tue meditazioni che sono personale e che qua sono veramente più forte perché c'è c'è e c'è il tuo il tuo te superiore che ti ha detto oh ci sono e quando fai delle domande a delle persone che vengono qua e che rivengano e che anche comprano delle terre o delle case perché c'è tanti esempi di di tutte le nazionalità quando ti chiedo ma cosa hai scoperto a Visocco tantissime persone io primo ti dico ah mi sono scoperto me stesso e da lì a te di vedere come vuoi vivere questa vita o continui la tua vita normale o continui inizi a ascoltarti e a iniziare per ascoltarti per la tua vita e di ma e di attivare questa connessione con te stesso perché ti bussa e ti dice oh ascoltati perché sono io e sei te e e da lì poi inizia una grande nuova avventura perché esci della tua zona di comfort se hai voglia di farlo e e quando vai vai quando esci della tua zona di comfort in una zona sconosciuta ma che è questa che ti dà un impulso di vita e di essere te e tutti questi posti che ci sono qua le diverse pilamidi diversi posti e hanno tutti un'energia differente ma quello a te di di sentirlo confronto a tutte le esperienze che hai avuto nello scambio nello campo della meditazione e scusa scusa e come diceva barbara è meglio sono cose personale è meglio non dirle perché contamina poi i messaggi che ci ha visocco da darti te le ecco è meglio scoprire e di vedere da se stesso che cosa visocco c'ha da dirti e cosa la tua elevazione c'ha da dirti anche a te a fare scusa ricevevo una chiamata di un altro ragazzo italiano riccardo che che è venuto l'altro anno e vi mando veloce il link scusa perché un italiano che che sta per arrivando poi da se arrivate l'ho incontrato magari intanto faccio una piccola precisazione perché secondo me tutte e due le cose che avete detto appunto molto interessante perché è quello che vogliamo fare uno zoom e parlarne però nello stesso momento sappiamo che arrivi a un punto che non vuoi veramente dire perché parlare dopo che qualcuno ha fatto la sua esperienza è completamente diverso e è proprio anche per un massimo rispetto della strada di ognuno quindi a livello proprio di comunicazione c'è massimo rispetto massima libertà perché appunto stiamo andando su un'altra frequenza non ci sono i giochetti no di tu io business quello quell'altro quindi è molto molto interessante e nello stesso tempo confermi che comunque queste strutture hanno effettivamente una funzionalità perché è talmente chiaro come tu ti puoi anche misurare cioè quello si può anche misurare di quello ne possiamo parlare sappiamo che se vai in un posto dove scorre l'acqua tu avrai una diversa frequenza rispetto a dove sta ribollendo un vulcano siamo d'accordo ma queste strutture sono state anche costruite create pensate con questa conoscenza che ha qualcosa in più perché le informazioni ci sono lì le energie cambiano puoi veramente andare in un luogo per ricevere un calm down non so relax per ricevere energia per insomma dopo questa relazione personale ma ci sono tante cose che poi dopo quando ne parli sono condivise qualcosina si può condividere ma appunto restiamo magari solo per spiegare perché magari non andiamo nel dettaglio per non inquinare una potenziale esperienza ecco penso che essendo molto profonda e unica per ognuno chiunque racconta di queste cose comunque parla di una dinamica che poi per ognuno è differente quindi non penso che più di tanto si rovini niente a nessuno ecco ovvio che chiunque vada avrà la propria connessione avrà i sogni avrà i sogni prima del giorno che arriva là perché magari ovviamente devi avere un certo tipo di vita per avere un interesse come quello di farsi una settimana là ti dici vabbè faccio un po' di mare in Croazia poi vado un po' nell'interno poi vedo sto posto poi posti belli ce n'è perché c'è ce n'è tanti Sarajevo è bella e oddio come si chiama quel poco quel paesino che ci aveva al ponte che gli hanno buttato giù nella guerra è bellissima che sono andato è bella un paesino di un tipico meraviglioso poi lì si fonde il mondo arabo col mondo europeo per la contaminazione turca ottomana e poi il clima è bello e la gente è bella si vive con una pace una calma che veramente stimola la vacanza in un posto così piuttosto che andare chissà dove ce l'abbiamo dietro casa vivendo in Italia andiamo lì a fare una prova però uno che può avere l'interesse di andare a fare queste esperienze è qualcuno che ha già fatto un tipo di vita dove mangia pensa si comunica col creato in una certa modalità ed è ovvio che andando lì trova gente del suo calibro e visioni conseguenti parlando tecnicamente della struttura di per sé le strutture di per sé guardando all'orientamento astronomico perché uno banca a guardare quei dati lì Samir Rosmanagic che è un imprenditore bosniaco un imprenditore edile bosniaco che nel 92 con la scoppio del conflitto se n'è andato in America e ora tuttora c'è una ditta là e poi ha creato la fondazione perché lui ora poi essendo che anche ha studiato come archeologo segue questa cosa perché ovviamente è un interesse mondiale anche se ovviamente osteggiato da quasi tutto perché nessuno ha interesse negli altipiani che cose di sto genere tecnologie non di questo mondo per la nostra umanità e di altre umanità se si può parlare di umanità all'epoca chiunque abbia costruito quelle cose le ha registrate le ha tarate con un cielo che non è quello che abbiamo ora né quello che c'era duemila anni fa e quindi appunto andiamo indietro di molto tempo i fiumi il scorrimento dell'acqua e le condizioni telluriche che hanno condizionato la creazione di queste strutture e il mondo che ci si è costruito intorno tant'è vero che era una montagna coperta d'erba poi lui passando di lì con l'occhio tecnico di uno che lavora con le pietre e con gli scavi ha detto secondo me può essere che e poi come Heinrich Schliemann quando era andato a scoprire quella che si diceva Troia in realtà ha scoperto roba antecedente all'eventuale Troia che poi Troia effettivamente non è neanche lì perché la Grecia non è quella cosa di cui parlano le mitologie greche e Felice Vinci ne parla bene in suo come ero nel Baltico quindi loro hanno creato quello che ad oggi possiamo riscontrare se andiamo lì fisicamente a toccare con mano quello nostro spirito e possiamo abbeverarci all'esperienza di chi già in altri posti perché Tiwanaku Teotihuacan Gobekli Tebe Stone Age ce n'è tanti di luoghi mistici la Sardegna con i nuraghi anche lì dormire in un nurag chi l'ha fatto hai delle visioni sei condizionato ti senti ti senti aspirare qualcuno dice mi sento che e poi ovviamente se sei sporco stai male se sei pulito ti senti perdere il controllo su se stesso a Gizza non ti ci fanno né salire perché una volta uno ci è andato su è caduto è morto un casino dentro manco a morire ti ci fanno entrare ma chi ci è andato parte Napoleone che se ne parla e l'ultimo che ci è andato ci è andato negli anni 30 mi pare adesso non mi ricordo il nome ma lo so chi è dentro la piramide di Gizza hai delle visioni sei soggetto a delle interferenze che sono proprio dovute al fatto che lì c'è una concentrazione energetica allucinante e noi come piccoli ricettori con le nostre pineali veniamo saturati da questo segnale ci rendiamo proprio conto che il nostro struttura biologica è un'antenna e se l'antenna di noi che stiamo sulla superficie lì a livello del mare tra il tellurismo di sotto l'energia astrale di sopra e noi che stiamo nella terra di mezzo che siamo le uniche forme di vita umanoidi che stanno verticali come animali perché tutto il tempo verticali ci stiamo solo noi anche le scimmie ogni tanto si alzano ma per lo più stanno quattro zampe e noi con la nostra spina dorsale siamo un'antenna e allora dobbiamo capire che siamo dei ricettori e se invece che stare nelle città con l'inquinamento elettromagnetico con l'energia psichica a dei livelli vomitevoli di schifezza perché sono tutti depressi agitati o super eccitati per motivi futili andare nei posti naturali è una botta di positività che non tutti sono pronti a resistere a ricevere detto questo c'è da conoscere appunto un po' di tutta quella paleogeografia che racconta di questi luoghi mistici e mitici del mondo che effettivamente hanno un potere che ovviamente è nascosto sotterrato sminuito da tutto il mainstream e che esiste perché volendo è a portata di mano per chi ha la briga di prendere andare non mi pare che lì ci siano filtri pagamenti eccessivi di spese per entrare o addirittura governi rompipalle vai lì ci stai ti godi quell'esperienza e puoi raccontare la tua versione di un posto mistico come altri altro da dire la piramide chiunque abbia una piramide una genesa vabbè la genesa pulifica quello che c'è dentro ma queste strutture sono archetipiche hanno una struttura la piramide tutto quello che ci metti dentro una piramide diventa potente a oltranza infatti se uno ha una struttura piramidale in casa perché l'ha comprata al mercatino non può tenerla lì e basta perché l'aria che ci passa attraverso a meno che non è fissa un mattone di pietra scolpita c'è la piramide un fermacarte pesantissimo ma se ce l'hai di rame di qualche metallo sappi che tu ci devi mettere una pietra dentro affinché non si concentri tutta la carica energetica che viene prodotta dentro la piramide che poi viene sparata su viene anche per terra viene a piazzare le piramidi sono state messe sulla superficie di questo posto che io manco chiamo terra come mappe per tenere insieme le energie che potremmo chiamare quelle le linee energetiche le linee di Hartman e Kerry che tengono stabile queste strutture materiche che noi chiamiamo placche tettoniche perché se le togliessimo se le smontassimo cosa che non sanno costruirle ad oggi con tutta la scienza e la sacenza del 2024 i grandi espertoni non possono neanche smontarle sono lì e rimarranno lì le ha costruite qualcuno ti dicono i dottoroni che le hanno costruite con le lime di rame la sabbia e gli schiavi in realtà è impensabile tutto ciò ma queste cose hanno oltre alla geometria sacra hanno la prerogativa di essere canali di comunicazione con altri posti ora vabbè non voglio monopolizzare la serata io parlando però sono cose che portano a livelli superiori l'individuo e mi sono perso un pezzo ve lo devo dire mi verrà in mente però sì vabbè me lo sono perso che l'hai conosciuto Sami Rosmanagic Luca sì abbiamo fatto ci si vede spesso lo trovi diverse volte nel parco gli puoi parlare bisogna parlare inglese ma è un grande personaggio ma poi Sami Rosmanagic fa le cose con la fondazione te le puoi visitare ma poi scopri da te e fai degli incontri con della gente che sono sulla tua frequenza e con della gente che diciamo il divano e l'universo ti vuole far conoscere e a chi devi parlare e avere una discussione e e poi vai a visitare qua vai a camminare qua nel paese bellissimo gli incontri e c'è Bruno è partito ieri sera e ci siamo abbiamo passato una settimana insieme perché vado a aiutare i volontari e e dunque ho conosciuto delle belle persone abbiamo andato insieme su il tempio di Movoerf abbiamo fatto una bella camminata con altre cinque persone siamo andati ieri sulla piramide del drago poi siamo andati a Sarajevo perché prendeva l'aereo e è pieno di energia Bruno e fai degli incontri magici che soprattutto ci senti bene ci senti bene e fai delle vacanze e questa scoperta di Visocco e al livello economico con dieci euro mangi al ristorante ma prendi anche la birra il caffè il dolce e mangi bene e con quindici o venti euro dormi in una bella casa bosniaca e e poi con i diversi incontri che fai e vai a visitare qua qua o le scopri da te fai le tue meditazioni vai nei tunnel e che qualcosa di non sai non c'è la claustrofobia nei tunnel il tunnel è è qualcosa ma io consiglio di andare nel tunnel la mattina presto quando c'è tanta gente nel tunnel c'è tanta gente ci sarà 50 80 persone che sono nei tunnel e c'è posto per tutti ma ognuno viene perché il tunnel fa qualcosa su di te al livello della tua connessione ma ti fai la cura di quello che deve essere curato nel tuo corpo perché è una delle funzioni dei tunnel e una anche delle funzioni di tutto il complesso perché l'energia è qua e ti fa bene e quello non c'è parole è solo da sentirlo da da te e poi soprattutto se sei mandato e vieni a vedere me e Amaya siamo un po' al controcorrente di dove vanno le persone ci si va a orari e ognuno ha il suo spazio e delle belle discussioni veramente profonde e siamo stati bene sulla piramide del drago Bruno eh parliamo ascoltiamo Bruno le sue impressioni raccontaci vai a te c'è il microfono di chiuso c'è il microfono microfono ah grazie opposto mi sentite sì ok innanzitutto scusate per l'accento bresciano no le mie impressioni diciamo che io sono un ragazzo normale ragazzo mai cinquantenne anch'io però ti fa passare quegli stati di ansia di apprensione che il sistema appunto crea per distogliere la tua attenzione dai veri davvero te stesso che sei davvero la tua io e quindi penso che qualcosa di magico ci sia come lo è anche Lucas magico mi ha fatto un giochetto di magia un giorno sto ancora pensando come abbia fatto ma è stato forte insomma su cose che ti lasciano un bel ricordo e quindi come dice Luca anche posto economico dove si mangia bene le persone sono molto cordiali ieri la nostra vicina di casa ci ha offerto un piatto di una torta tradizionale bosniaca ce l'ha mettata tutta Lucas perché Lucas mangia come un drago quindi però dai le mie impressioni sono da turista ok mi piace fare vacanze un po' alternative perché perché dell'archeologia proibita mi interesso anch'io da circa 20 25 anni mi è sempre mi è sempre affascinato il discorso di sapere di cosa ci ha creati non ho mai creduto alla scuola che ci diceva che gli egiziani con la corda non sono una pietra ma non tanto quello lì strano ma chi può ideare tanto cosa diveniva lo spunto di farlo a forma di piramide così grande per una tomba è assurdo chissà quante rivolte sindacali ci saranno state all'epoca degli egiziani se fosse vero quindi è l'interesse la curiosità che voglio che mi spinge a fare questi viaggi ok come per qualcuno invece la meditazione per qualcuno per sintonizzarsi su alte frequenze io sicuramente per la curiosità che poi trovi persone bellissime di cui puoi parlare di cose che se parlassi qua nel mio paese mi mettono mi fanno il TSO e quindi è bello sentirsi normali qualche volta ok chiudo qua perché dopo non ho altro da dire era la tua prima volta a Visoco Bruno? no è la seconda volta sono stato anch'io nel 19 una settimana perché poco mio lavoro non riesco a svincolarmi molto però volevo sempre tornarci tornarci dopo c'è stato quel periodo di pandemenza e quindi mi sono un po' orientato su altri viaggi comunque prima o poi tornerò ancora o magari anche ad abitarci chi lo sa come dicevi come diceva prima Luca se si trova a casa da buon prezzo chi lo sa che cosa ti offre la vita in futuro ok bene a dopo se servirai ancora si si va bene grazie stavo pensando perché avete detto tante cose che appunto a cui mi potrei riagganciare non so neanche bene dove riagganciarmi perché tante esperienze magari condividere intanto lo schermo che magari mentre si chiacchiera viene voglia di guardare qualche paesaggio e penso che può essere d'aiuto a chi magari non ha un'idea del luogo va bene se per me stesso così perché mi volevo intanto anche ricollegare a quello che dicevi cristiano sulla questione della comunicazione e anche sul fatto che ci sono piramidi un po' dappertutto sulla terra e di fatto recentemente sono anche andata in Messico e questa questa sensazione di poter barcare i confini dello spazio-tempo quando sei vicino a certe strutture diventa reale sofici ok reale lo so che tra virgolette magari mi sento un po' rimbombare magari c'è qualche microfono ok grazie e questo e quindi questa cosa della comunicazione e dell'importanza della dislocazione sulla sulla terra di questi piramidi è molto interessante tanto che anche l'affermazione che hai fatto riguardo alla costruzione che deve essere avvenuta con una conformazione diversa astronomica però mi è venuta una domanda e non è che magari questa conformazione si sta riallineando in qualche modo magari un'ottava diverso però perché arrivano quei momenti in cui sembra che già sembra a me sembra più che sembra percepisco che è condiviso da molte persone questa chiamata e questo ritrovarsi una domanda mi presti il fianco mi presti il fianco all'anno platonico al giorno di brama che ogni 25.600 26.000 anni più o meno ricomincia dopo la precessione varia e si riparte però ci siamo in teoria perché più o meno a me non c'è problemi potremmo anche sublimare cambiamo chi è pronto chi si è adattato chi ha fatto i compiti nel mentre è pronto a questo salto frequenziale anzi direi che stiamo scalpitando noi operanti gli altri non hanno capito non hanno fatto sai l'archetipo della cicale e la formica finché era bello cantavano e ballavano poi arriva l'inverno e non sono pronti a sopravviverci è un'evoluzione anche questa selezione naturale se fosse di certo potremmo andare in un altro mondo potremmo morire cambiare stadio piano dimensionale potremmo andarci col corpo non lo so di certo la vita cambia se tu fai delle cose dentro e fuori di te e questi posti guardali cioè tra cielo e terra cosa c'è di mezzo se non tutta l'opportunità che ogni giorno per 24 ore possiamo dedicare a fare quello che ci quello che ci serve quello che dobbiamo quel signore lì mi avete detto che ha 91 anni e lì con la zappa in mano c'è gente di 60 anni che girano col deambulatore che cazzo hanno fatto per ridursi così anzi cosa non hanno fatto per ridursi così mentre quello è lì ma questa è la montagna è la la piramide della luna sì in inverno siamo sul plateau la piramide della luna lì facciamo l'ecovillaggio a Visoco è deciso costa poco la vita la sovranità la possiamo applicare perché lì non serve neanche far tanto discorsi c'è spazio siamo comodi a casa se vogliamo fare un giro in penisola italica che ci ammazza decisamente siamo vicini al mare è fertilissimo qua cioè se uno vuole coltivare qua è fertilissimo perché si vede la terra nera me la ricordo bella marrone bella ricca ricca di ferro poi lì il terreno è carsico è tanto argilloso argilloso sì sì tanta argilla ma fa bene alla pelle ha tante proprietà energetiche c'è Fornizza e la Boston River ma poi rivenendo sì ci siamo quasi alla fine di questo ciclo e per questo l'abbiamo parlato in off per me in un'altra vita quando sei era l'inizio ci siamo detti e si viveva a Visocco perché è una delle prime città per me e ci siamo detti ci si ritrova a Visocco e abbiamo fatto tutto il nostro ciclo di rieincarnazione e siamo in un'altra incarnazione e per me questa vita è il momento dove ci siamo detto e ci si ritrova a Visocco e ci si sta vedendo e ritrovarci a Visocco per finire e chiudere questo ciclo e il nostro noi superiore vuole connettersi con te che sei una bella antenna e qua o se mi devi incontrare me e Barbara e te Cristiano perché siamo in contatto ora possiamo aiutarti a averti la connessione con te e poi tocca a te di fare le tue cose perché il tuo channeling passa attraverso la tua antenna è un processo ma è facile ma non è facile ma è facile quando vuoi nessuno ti ferma e ora si vede che tutto va veramente in fretta si vede e si sente che il mondo sta crollando il vecchio mondo ora siamo in queste nuove energie o siamo creatore e il shamanic il buddismo questo 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 per me sono delle vecchie energie e sono anche c'è tante persone che vai ad ascoltare ma che ti mandano in un'altra strada e questa strada o la devi prendere perché è la tua esperienza che devi vivere con questo corpo con questa vita o ti decidi di ascoltarti te che non è la via la più facile ma che è la via che il tuo te ti chiede di fare e dunque ognuno fa quello che deve fare e beh Luca tu parli bene c'è uno spirito antico e oltretutto essendo francofono parli benissimo l'italiano parlerai anche l'inglese il bosniaco non l'hai ancora imparato no ancora no ma qualche parole ma ti fai capire anche se la persona non parla inglese ti capisce con i sorrisi le mani l'occhi la tua intenzione e te la cavi e grazie di dimmi che parlo bene ma parlo in cian e quasi costantemente sono io ma non sono io ma sono io e il primo messaggio che ho ricevuto di me tre anni fa ma poi questa volta finisce finisce il primo messaggio che ho ricevuto di me quando ho passato un un passo era sono io ma non sono io ma sono io e mi è arrivato un inglese e l'ho capito e ora sono io che ti parlo che è il mimè superiore come te parli con la tua connessione che viene da te assolutamente chi mi conosce sa che io comunico anche quando sto zitto ma esattamente perché quando abbiamo deciso di avere un contatto e di avere un dialogo insieme c'è ok si parla ma c'è due elevazioni che si parlano anche e dunque poi ti arrivano delle informazioni che vengono da te perché hai ricalibrato la tua bussola interna che quando ti metti ad ascoltare questa bussola e non più il tuo ego che non devi distruggere devi solo dargli meno spazio e a questo momento apri delle porte e fai dei post e fai spacchi i programmi che abbiamo e fai del post per ricevere le nuove informazioni che ti vengano da te e dunque a questo momento poi sei un'antenna perché hai capito che la tua conscienza non è qua è fuori di te e che vuole passare attraverso di te prima per te e poi agire per l'armonia per creare il tuo paradiso dove sei incontrare le persone con chi sei d'accordo e questo lo puoi ricreare dappertutto basta solo che ricevi il tuo channeling ce l'abbiamo ce l'abbiamo tutti tra di noi con la connessione del chakra del cuore tranquillo buona serata e col chakra del cuore siamo tutti connessi perché il chakra del cuore sta al centro di noi noi siamo in un pianeta mediano siamo in una terra di mezzo abbiamo questa esperienza da fare in forma umana e tra noi puliti perché siamo tutti connessi o connettibili ma dobbiamo essere puliti di solito l'individuo viene sporcato sistematicamente progressivamente e poi all'inizio e poi fa tutto da sé essendo sporco non può fare il lavoro che naturalmente gli è spontaneo e come la guarigione spontanea avviene quando tu smetti di danneggiare il corpo di stancare il corpo basta lasciarlo stare per esempio il digiuno fa dei miracoli ma non è tanto il digiuno è lo smettere di fare la cosa sbagliata che fa sì che la cosa naturale riequilibri perché fondamentalmente non è che dobbiamo stare bene noi noi dobbiamo stare neutri quando siamo neutri siamo nel nostro di solito noi viviamo come occidente male e quando stiamo molto male ci lamentiamo ma quando chiamiamo la situazione normale è comunque già un'intossicazione generale e quindi non c'è la possibilità né di connetterci né di comunicare tra di noi da cuore a cuore proprio perché il chakra del cuore è quello centrale te dirai ma no il chakra del cuore però se calcoli anche la corona sì quindi dobbiamo comunicare da cuore a cuore cos'è il cuore la sede dello spirito cos'è il sangue lo spirito fatto materia tu capisci tutte queste connessioni sincretiche questa alchimia e poi ti ritrovi che hai il mondo dietro casa dove veramente potremmo fare una comunità lì a Visocco dove tutte le mattine io e te ci andiamo a scalare la piramide del sole a piedi alle 4 del mattino e ci ritroviamo che a 130 anni siamo ancora lì che lo facciamo e diciamo ma è normale che noi a 130 anni facciamo ancora queste cose chi se ne frega degli altri non ci penso non li vedo loro non sanno noi non credono a noi noi non crediamo noi dobbiamo ognuno viva nel suo mondo con i suoi simili perché se guardiamo agli altri il mondo è bello perché vario le differenze possono irritare possono spaventare in realtà le differenze aumentano il piacere della vita stimolano però io so io i gatti non è che sono tutti gatti puoi mettere tutti i gatti che vedi in una stanza perché sono tutti gatti ci sono tipi tipologie razze ci sono caratteri quindi siamo tutti unici tutti diversi ma i macro gruppi più o meno devono devono più se stanno insieme vivono meglio e quindi gente come noi dovrebbe veramente poi produrre un percorso che non è detto adesso io e te non ne abbiamo ancora parlato perché è da poco che ci conosciamo grazie a Barbara però Barbara già sa e già fa con me cose da 5-6 anni e magari magari davvero veniamo a creare una realtà lì anche perché stiamo già pianificando di farla da qualche parte dovevamo solo capire dove farla e in effetti io lì alle piramidi ci sono passato davanti l'ultima volta sì l'ultima volta nel 2016 e ho detto poi ci vado poi ci vado e non ci sono ancora andato ma mi sa che quando ci vado questa foto scusa questa foto è una foto sulla piramide del sole è un posto molto speciale e già lo vedi con le forme di larveri un posto quando metti il tupandul non va così va così e sta fermo ci sono ritornato oggi con Simon è stata una magnifica esperienza per Simon questo messaggio così lo capisce anche Bruno è in contatto con Simon e poi per dirti intorno a noi abbiamo tante porte organiche su 10 persone che sono intorno a te c'è 7 portai organico che per me che non hanno connessione che sono qua per dare energia al sistema e che sono il tuo boss che sono per dare anche gente della tua famiglia e queste persone ti pupano l'energia e ti fanno stare in questo sistema ma quando ti sei connesso a te questi portai organico non lo so come si dice esattamente in francese portai organico ce ne è 7 intorno a te su 10 persone e ce la fai a sentirli vedi che sono li senti quando li senti parlare senti che è il sistema che parla attraverso di loro e che ti attaccano anche oggi Barbara Amaya si è fatta attaccare ci ha avuto un'esperienza di un attacco fisico verbale con uno di questi robot e dunque questi robot li senti poi dunque ti metti in connessione con la gente che è connessa e che vuole continuare a essere connessa e dunque e con chi vai a creare questi legami che diventeranno la gente con chi stai bene per creare questi sì posso aggiungere perché secondo me è importante anche visto che ognuno è qua per sviluppare la propria unicità quindi in realtà appunto trovare noi stessi come primo lavoro importante poi dà proprio la possibilità di vivere questa nuova unicità in modo diverso cioè con Cristiano ci siamo conosciuti per la questione della sovranità che non sono mai stata quella dei documenti quindi un attimo ho lasciato un po' perché per me ecco la burocrazia è una cosa che evito volentieri ma il concetto di sovranità di ripristinare la nostra sovranità ma anche unicità cioè riprendere in mano questa coscienza di essere creatori vuol dire vibrare un tono se vogliamo una nota sempre meno distorta se posso usare questa diciamo metafora di frequenza di frequenza cosa succede che ognuno porta una nota appunto pulita quindi sempre meno distorta facendo il proprio lavoro ma in più la nota pulita entra in risonanza più facilmente e stando vicini ci supportiamo in questa nuova frequenza e permette anche di essere più espansa perché siamo come dei ripetitori anche l'uno con l'altro tu mi ricordi una cosa io te ne ricordo un'altra io ti ti vibro la chiarezza che io ho sviluppato in questo ambito per esempio ho fatto tanta esperienza nel campo dell'arte quindi posso vibrarti questa nota pulita perché io la so tu mi vibri la tua nota pulita e così c'è proprio questo passaggio proprio nello stare insieme e nell'essere quindi momentaneamente l'un l'altro si può sì usare la parola guida ma anche che poi è interscambiabile ma anche proprio di sintonizzatore o beh in inglese tuner o come si dice questo diapason non lo so comunque accordatore accordatore ecco sì sì e questo secondo me è un concetto molto sempre più chiaro che hai l'occasione che quando hai l'occasione di sperimentare è buono veramente sentire che appunto questa è la normalità ma fare proprio quel passaggio da dire no non è un momento a caso che ti è successo chissà quando mi ricapita no perché tu prendi la tua decisione lo vuoi far ricapitare sempre di più oppure non lo vuoi rifare ricapitare perché al fine siamo qui per scriverla la nostra storia non è che abbiamo veramente qualcuno che ci deve obbligare come ogni proposta è una proposta ricordiamoci che possiamo dire sì o no poi io appunto ho avuto questa esperienza appunto oggi mi sono detta wow ho avuto un picco di un'esperienza molto bella e a controbilancio di questo picco di un'esperienza di contatto tra persone molto bella c'è stato questa sorta di personaggio che salta fuori dal nulla mi attacca minaccia e così e dico wow e anche se non è durato tanto ho sentito quanto questa era una nota dissonante totalmente mi mandava in reazione ovviamente durato poco ovviamente la mia scopo è non incollarlo neanche più e non proprio reagire neanche 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 un po' perché ogni piccola reazione rischia di essere un consenso che non vuoi veramente che non vuoi dare insomma quindi giustamente però è un'avventura io ho deciso di vivermi questa avventura è una chiave di la principale chiave è la tua armonia di fare di essere veramente di fare le cose che vuoi fare di si c'è delle cose nella tua vita che non vanno bene c'è solo te e le puoi o continuare o cambiarle e e questo è la chiave e la tua armonia personale più che stai bene più che sei in allineamento con te con la tua armonia e più che il fluo di te passa attraverso la tua antenna se non sei in armonia nella tua vita dove sei o a te di di fare in modo che stai bene e così ti allinei e così ti puoi ascoltare se non sei allineato se non sei nella buona armonia sei in modo automatico e dunque vivi e la sera ti rientri a casa non ti ricordi più di cosa hai fatto perché non c'è tempo per te e infatti da dieci giorni che sei ritornato in Zvizzera non c'è più tempo per te Barbara o poco e questo non c'è prezzo di avere tempo per te perché hai fatto con le tue obbligazioni perché bisogna guadagnare i soldi ah e il mangiare qua le cose che si mangiano i ciliegi i pomodori tutte le verdure tutto quello che prendi c'è gusto e l'acqua l'acqua c'hai le fontane qua la sorsa qua la sorsa qua e l'acqua che bevi in tutti questi differenti posti ti porta informazione perché siamo fatti d'acqua e dunque quando c'è il tempo di pensare a te di essere in armonia e a questo momento è più facile e sicuro di ricevere le tue informazioni di te e a te perché la tua vita la tua esperienza di fare quello che devi fare o prendi vai nella zona di sconosciuta che è questa che ti dà o stai nel tuo comfort nel tuo trantran e queste sono scelte personali ma ora siamo arrivati a un momento dove il tuo te superiore ti bussa ti dice oh quando riprendi il controllo di questo corpo perché non sei questo è di vivere la tua vita e di fare la tua esperienza se non lo fai è perché è la tua esperienza da fare e ora tante persone si stanno svegliando e vogliono avere questo questo controllo della tua vita passando da da te tu ovvero te si basta chiaramente hai hai appunto per vederlo anche dal punto di vista della sovranità hai contratti che hai fatto magari in momenti in cui non eri cosciente per fortuna adesso tutto è molto presente cioè le cose avvengono molto velocemente adesso quindi puoi prendere delle decisioni vengono portate alla superficie quando prendi una decisione non è che prendi una decisione e tutto cambia improvvisamente perché magari non hai visione globale di tutto quanto era intersecato in quella decisione quindi magari si presenta qualcosa alla tua vista e capisci cosa devi quale passo devi fare per continuare nella direzione che hai preso penso che sia naturale semplicemente prendere sempre più responsabilità si questa di posizione quando un'altra posizione vai a destra vai a sinistra ma quando prendi posizione nessuno ti può muovere di questa posizione e dunque inizia a mettere in armonia la tua vita che la posizione viene da prima prima sai chi sei perché se non sai chi sei c'è la posizione la occupa qualcos'altro e quindi non puoi seguire veramente però si prendere posizione è uguale trovare l'equilibrio l'equilibrio devi un attimino capire chi sei tu dove sei poi ti arriverà anche il perché sei lì e allora a quel punto hai la trinità comunque prima di adesso manca più o meno mezz'ora poi vogliamo sentire eventualmente se ci sono domande dagli astanti e volevo chiudere il discorso di prima dove ho detto che la piramide ha una struttura per cui se ci metti dentro la roba quella roba viene potenziata potenziata la piramide è un potenziatore tra le tante cose che fa è anche un potenziatore ma se ce l'avete in camera e so di gente che l'ha comprata al mercatino se l'è messa lì dopo sei mesi un anno che ci aveva l'aria l'etere di quella camera che passava attraverso questa struttura e veniva potenziato in quella camera in quella stanza non ci si dormiva c'era l'energia mille succedevano cose strane perché la cinetica poi permeava addirittura l'etere di quella stanza era proprio una cosa fastidiosa le piante crescevano in maniera smodata perché la piramide bisogna bisogna dargli qualcosa da mangiare se la tenete lì se la create se no la smontate non la create se no ci mettete dentro un sasso almeno viene potenziato il sasso il sasso all'ennesima potenza è sempre un sasso ma tutte le cose organiche esplodono di energia mentre la Genesa che è quella figura con i pentagoni fatta così con cinque lati con la palla è una cosa che armonizza queste geometrie sacre queste leggi dell'ottava queste cose che sono per nulla spiegate nel mondo sistemico che fa da filtro per carità va bene il terra terra imparare l'uno più uno l'alfabeto e una più o meno due o tre linee guida su che cos'è la storia che cos'è come ci si regolamenta nel mondo e va bene va bene fare la scuola sistemica se sai che cos'è e prima di andare alla scuola sistemica più o meno sai chi sei tu poi sai che cos'è la scuola sistemica allora vai lì e ti godi perché ridi capisci come i livelli bassi perché è innegabile che ci sono livelli evolutivi bassi medi alti altissimi bassissimi e a tutti hanno diritto di esistere tant'è vero che ci sono forme di vita sia animali vegetali ma anche parlando del range umanoide parliamo della razza umana che più o meno ci dicono che chi è come noi come forma sono tutti umani palla perché umanoidi ce ne tanti umani sì ce n'è per lo più circoscritti in quegli città alveari che sono i contesti collettivi tutti col numero con la striscia alfanumerica tutti che cercano chi gli dà da mangiare perché così sono stati evituati ma chi impara per imitazione non andrà mai oltre chi gli perpetua l'indottrinamento e non conosce appunto le geometrie che cosa sono i numeri che cosa è il tempo che cosa è la morte che cosa è l'acqua che cosa è la luce che cos'è il sincretismo tutte queste scienze che non sono cose moderne futuristiche aliene o cose che mi invento io che magari appunto tengo il corso corsi di due anni per volta per spiegare i principi dell'esistenza che poi li puoi trovare nella vaga la vita nei vangeli da tutte le parti anche il corano ne parla che se ne dica il corano è bellissimo come tutto è bellissimo tutto ha senso il mondo è già perfetto così com'è devi solamente trovare il tuo equilibrio ossia trovare una posizione prendere posizione e poi fidati che stai bene se non stai bene lì sai dove andare a mantenere meglio la posizione ovviamente Barbara essendo uno spirito connesso molto connesso con la sorgente in un mondo dove l'etere è quello che è l'etere intendo l'acqua l'energia ambientale l'aria che è l'acqua l'aria l'aria l'energia ambientale quel campo morfogenetico che viene informatizzato dalla media degli abitatori di quel territorio che quindi mettono in quell'aria in quel territorio che per esempio nel suo caso cos'è il canton Ticino è un posto dove per quanto è bello il paesaggio per quanto che bello la cioccolata e le mucche sui monti però non è che è un posto felice anche anche il principato di Monaco è bello però le cose belle le cose sane sono diverse e per esempio una visuale come questa che sembra casa mia in penisola italica che vedi un posto così nelle colline e io sono in Gran Bretagna sono in un'isola chi non lo sa e da otto anni però ho girato mezzo mondo Africa compresa e invece la casa in penisola italica ha una vista di sto genere e a me piace non mi piace troppo la montagna non mi piace la pianura il mare è bello però mi fa paura perché già so che funziona ciclicamente il mare ogni tanto porta via tutti i fessi che sono sulla costa e perché sono sulla costa perché devono fare commercio e perché hanno bisogno di fare commercio perché non si bastano da soli allora devono fare cose con gli altri e quando le fai con gli altri dopo un po' ci prendi il lecco ti disequilibri e allora vuoi fregare e allora abbiamo il mondo commerciale allora Dio ogni tanto ripulisce tutte le coste come è già successo almeno 5-6 volte in passato e si sa infatti se venisse un ennesimo maremoto tsunami cose varie la faglia di Santa Andrea che collassa arriverebbe la sesta estinzione di massa non che mi dispiace perché casualmente come il Cristo dice quando vedrete i segni nel cielo o gli opi ti dicono vedi le ragnatele nel cielo vai sui monti e io infatti cerco i monti concludendo le mappe del mondo sono tracciate sia sotto terra sia sulla superficie emersa sia in altri posti pianeti che si possono vedere con queste cose che dall'alto sono quadrate il quadrato ha un significato materico però il triangolo perché la piramide tu la vedi dall'alto in quadrato qualcuno dice che le piramidi non sono tutte quadrate o non nascono quadrate quella per esempio di Kung Fu non è quattro lati ne avrebbe otto però oramai e vabbè rimaniamo che sono quattro quattro è il numero della materia perché l'otto è la sublimazione della materia però è anche un triangolo e il triangolo è protezione mentre il quadrato è creazione e allora abbiamo sta struttura che è una piramide di cui non è detto che la struttura continui sotto perché noi ci fanno vedere quello che ci fanno vedere a Visoco stesso non è che ci siamo entrati o ci sono entrati come ci si può entrare in quella digizza quindi chissà cosa c'è dentro ci sono quelle palle di pietra che sono state trovate che voglio chiedere a Condorinca queste palle giganti che sono trovate in tutto il mondo compresa sotto il terra in Pianura Padana che ci sono queste strutture cioè stiamo dormendo in un territorio dove precedenti abitatori che si sono messi in sonno se si svegliano tra cinque minuti e trovano queste cavallette come l'umanità attuale che crede di essere nel suo territorio chissà che dialogo può scaturirne perché poi chiudo in un giardino voi ci vedete il tizio che ha pagato le rate che paga le rate della casa e che dice quello è il mio giardino poi c'è la lucertola sul muro che dice questo è il mio muro poi c'è la formica che cammina che dice questo è il mio prato e poi c'è la banca o il governo o il catasto che dice qua è tutto mio quindi viviamo ognuno in base ai livelli ai piani dimensionali in cui crediamo di vivere la realtà è che se tu sai chi sei dove sei perché ti godi tutto capisci tutto il pazzo il cattivo il perverso il santo il felice il tuo simile l'animale l'alieno va tutto bene e vivi in pace se invece non capisci niente temi tutto le cose non hanno senso cerchi di sopravvivere sarai ipocrita farai fatica invecchi presto fai le alleanze e quando vedi qualcosa che ti può ricondurre la psiche a un'evoluzione la rifugi perché è qualcosa che interferisce con la tua dinamica di vita che è senza senso quindi una cosa che ha senso in una vita senza senso è quasi urticante e la respingi e di solito si aggredisce chi esterna incarna questo vivere io mi faccio i cavoli miei sono un monaco contemplativo e quasi ho fatto anni di remitismo e quindi non vedo nessuno sto benissimo vedo poca gente ma se mai nessuno mi viene a romper i coglioni ad attaccare se ci provano ci divertiamo tutti soprattutto io però è brutto quando qualcuno si espone come Barbara che magari dice quello che sente dice quello che produce quello che è cosa santa è sacro santa e qualcuno l'aggredisce ora io non ho idea di cosa che è successo ma posso immaginare perché sento tanta gente che proprio di sti tempi dove la spiritualità la frequenza crescente fa sì che che si veda chiaramente la qualità dello spirito che sta dentro a un veicolo in questo caso umanoide dove veramente la differenza tra i brutti sporchi e cattivi e malati e impestati e quelli belli spirituali sani artisti giramondo è palese cioè non è difficile dividere capire se tu sei grano o sei pula oggigiorno ce l'hai scritto in faccia dimmi la qualità del tuo sangue ti dirò chi sei dalla pulizia del sangue capisci chi hai davanti e basta chiudo qua perché se no ma guarda per me comunque solo brevemente non è una cosa grave e comunque ogni cosa quando succede è sempre un'occasione per capire cos'è che si può aggiustare cioè quindi non è appunto ci sono quelle cose che a me non succedono più perché tac ho capito non le quindi non era una cosa grave solo che io subito cioè sono molto puntuale perché adesso non c'ho proprio voglia di perderci proprio più tempo e quindi ah beh se c'è qualcosa da vedere la vediamo subito così risolviamo più in fretta possibile tutto lì quindi però sì è molto chiaro perché a un certo punto inizia a non essere più non ti vedono più come frequenza a un certo punto certe cose non arrivano più però brevemente e voilà e ste palle di pietra ah sì aspetta che magari c'è anche la foto le palle di pietra non t'avevo mandato con Barbara tre foto sì penso che erano le prime aspetta ma è meglio ci si farà un off se vuoi per parlare di queste tre foto e una foto in più che mi è arrivata oggi e e dunque Poldazzi ma è un soggetto sensibile ma ci sono da per tutte queste palle di pietre ma è meglio perché si esce del complesso di Visocco ma si potrà parlare Cristiano se vuoi quel furgone che si vede ogni tanto è il tuo questo qui sì e Bob e Bob e nove posti fa posso portare con me otto persone e dunque se siamo un gruppo di due tre quattro cinque e fa fino a nove persone si può andare dappertutto con Bob visitare accanto a Mostar c'è Darson un muro veramente qualcosa di speciale a cento chilometri di Visocco e c'è tantissimi posti da visitare ma di Gershwin e tantissimo a Visocco e per quelle che amano l'acqua e con Barbara e c'è tanti laghi tante cascate tante fontane di acqua naturale dunque potete raccolgere l'acqua qua 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 e farvi poi l'acqua la fate comunicare con l'acqua che avete a casa vostra e potete dunque bere della buona acqua c'è veramente tante cose da fare ma la più grande cosa da fare è di prendere tempo per te di sentire il flu e di non subire il flu e di prendere il controllo di questo corpo passando per la tua armonia e pensando a te e e passare un bel momento tutti insieme perché è questo lo scambio di essere insieme e di poter parlare di tutto eh sì eh no ci sta bene ah sono io questa è la piramide del sole visto dalla piramide o tempio dell'amore ancora non si capisce il nome ma la piramide ah qua invece è sulla piramide della luna c'è la vista dalla piramide della luna questa è una parte no ma prima c'era proprio anche una bella cioè le energie sono molto diverse e e vabbè qua vedo che ho solo le immagini dopo c'erano anche dei video comunque qua è la piramide della luna ci sono diversi reperti a vista così e tutto è tutto è praticabile comunque ecco la cosa bella è che non è che c'è non è allora qui non non hai le transenne ecco cioè tutto è praticabile ci sono moltissimi luoghi dove c'è un diciamo interdetto interdetto cioè io qui attorno vivo invece devi scavare cioè non hai delle strade obbligate mentre qua sei libero di esplorare e incontrare varie situazioni come clima è buono perché anche gli inverni non è che siano tremendi no 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 è l'inverno è 5 gradi 8 gradi 0 gradi c'è la neve ma non tantissima e e poi tutte le stagioni fa cambiare l'energia fa cambiare tutti i colori perché l'arbre perdono le foglie tutte le stagioni sono buone per scoprire Visocco qua si vede scopriti te stesso da qua non è ma si vede si vede il mio mouse questa è della casa dove sì questa è la piramide questa è la piramide del sole giusto sì è la vista che ho accanto dove abito qui è il tempio è la piramide dell'amore ok che è attaccato esatto e poi c'è questo è il tempio di Mover e poi un po' più a sinistra c'è la piramide della luna e dietro la piramide del drago è che però appunto si vede appena no la piramide della luna e poi l'altra dietro poi c'è il tubulo che è sempre in quella direzione no sì ma a 5 km ok e poi il tunnel e il tunnel è a 4 km e mezzo della piramide del sole sulla destra più o meno sarà in questa zona insomma è lì dove si può visitare ma c'è tunnel dappertutto ma che non sono scoperti ancora perché c'è una civilizzazione che ha creato i tunnel prima delle piramide e c'è un'altra civilizzazione che ha messo la terra e la sabbia dentro tutti i tunnel ma non su 50 metri ma hanno tappato tutti i tunnel e dunque ha preservato il sistema vitale di tutto il complesso la piramide di Gize è morta non funziona ma qua siamo in un sito dove l'energia delle piramide del complesso funziona tutto e poi c'è il cielo e le nuvole si prende tempo per sé si esce un po' dal tempo le nuvole tra l'altro c'è un movimento incredibile i venti lì a quota sono veramente cioè non troppo forti ma io ho notato un movimento che rispetto qua è veramente molto forte poi qua ci sono chiaramente le montagne però stavo cercando la parte dei dei tunnel ancora ma sono un po' vabbè questi sono alcuni sassi che si trovano si c'è delle domande perché si arriva la fine delle due ore si c'è delle domande siamo disponibili sì allora io finché condivido ho visto che qualcuno ha scritto qualcosa ma non riesco a vedere perché sto condividendo tolgo così se in caso serve lo rimettiamo e così ci possiamo vedere per le domande ok le piramidi se hanno la punta sparano l'energia fuori e quindi stabilizzano le energie astrali che arrivano dall'alto il tellurismo che sta sotto le piramidi piazzate lì come delle cerniere tengono la struttura che altrimenti potrebbe essere instabile ma non è una cosa di anni o decenni è una cosa di millenni quindi chi che ha creato queste cose le ha fatte per terraformare questo ambiente non le ha fatte solo per per un periodo limitato che poi sono state riempite coperte c'è cresciuta la vegetazione è perché sono strutture che devono durare nel tempo e quelle tronche invece mantengono l'energia all'interno per poi rispararla sotto questo si dice poi parlando di energie eteriche entriamo in un argomento dove chi non è un addetto ai lavori o comunque uno che ne mastica potrei far venire solo il mal di testa però c'è da tenere in considerazione una marea di fattori quindi il tellurismo l'energia astrale che arriva dall'alto noi che viviamo nella terra di mezzo e che comunque viviamo il clima l'acqua l'energia e le oscillazioni temporali le avete sperimentate le oscillazioni temporali il tempo passa più lentamente dentro i tunnel giusto Luca? Sì sì c'è tanto esperimento con il tempo perché il tempo non esiste il tempo relativo il tempo relativo si può farlo andare più piano è di essere nel momento quando sei nel momento il passato non esiste il futuro è già creato come un punto GPS e te c'hai tante strade che puoi prendere per arrivare il tuo punto GPS e dunque il tempo è relativo e qua tutto quello che dici sulle piramide è tutto terrorico magnetico ok ma con questo corpo e con questo tutta l'educazione che abbiamo ricevuto non si può capire e dunque è meglio fare l'abstrazione perché perdi tempo e dunque di essere nel tuo momento e dunque quando sei nel momento sei in meditazione sei nel flusso sei connesso sei connesso a te stesso perché sei in armonia non sei a controcorrente e dunque perché il flusso è sempre con tutta la gente che c'è intorno a noi e siamo nel flusso che è vivo e dunque quando c'è il tempo di essere con te quando sei in armonia quando sei connesso a te c'hai le tue obbligazioni vai nel flusso ma ci vai in conscienza perché non sei in modo automatico e con queste sono le regolazioni per essere in armonia di creare di essere nel flusso tuo anche una cosa che si può cioè che si può fare è che appunto facendo l'esperienza e condividendo nel momento è più facile appunto parlare di informazioni cioè sarebbe più bello come dire per proprio per diciamo attivare questo nuovo modo no di passarci la conoscenza è proprio quello di andare e sperimentare e condividere sul momento e lì emergono veramente tante informazioni perché poi hai la informazione fisica hai la informazione di altre antenne che abbiamo poco sviluppate ma che comunque stiamo sviluppando tanto adesso ogni nostra scelta appunto cose che facciamo che non facciamo ci ripuliscono per esempio questa nostra pineale facciamo la scelta di non fare le azioni sbagliate che continuano a contrarla e sporcarla sicuramente riusciamo a ricevere sempre più informazioni stanno nei luoghi giusti e quando sei nello stesso luogo vivendo un'esperienza assieme ognuno dalla propria percezione perché è quella l'unica che abbiamo come la condivisione in quel momento ha tutta un'altra qualità e poi ritroviamo tantissime conoscenze che sono già arrivate come queste dell'uso delle piramidi o altre sì perché poi però quando arrivano in quel modo è come è più facile dire ok questo è reale questo fa parte della nostra storia o comunque lo stiamo integrando nella nostra storia e altre cose invece risuonano meno vere ecco quelli erano degli aggiustamenti che poi magari erano necessari perché appunto per poter portare un messaggio e comunicare vai un po' aggiustare la comunicazione ti costringe un pochettino no a dare una forma per essere passata se non abbiamo attivi tutti i sensi la presenza la terapia e tutto quello che a cui possiamo accedere ovviamente dobbiamo anche restringere quell'informazione ma entrando in questo flusso e vivendola sempre di più poi non possiamo parlare ancora a un livello più alto secondo me questa è una delle cose importanti che fanno parte di questa esperienza no e per questo che Barbara fra poco riviene qua e abbiamo deciso di lavorare ma questo lavoro è la vita che vivo e la vita che va a vivere Barbara per il suo equilibrio e dunque abbiamo ecco grazie dell'invito Cristiano e grazie a tutti quelli che sono in diretta e che guarderanno dopo ma si si sta volendo non c'è niente da capire basta solo perché quando sei con te sai di già tutto sai di già tutto l'informazione ti arrivano dal tu te superiore che sai di già tutto e te ok sono un'antenna e lì il divano e l'universo ti dice grazie almeno così attraverso te per la tua esperienza puoi interagire intorno a te è per questo che ci siamo anche incontrato Cristiano per fare passare questi nuovi messaggi e grazie dell'invito certo no no è tutta conoscenza diffusa di cui di cui dobbiamo nutrirci tutti soprattutto portando a conoscenza gli ultimi arrivati ora magari gente come me sono 30 anni che fa cose 15 anni che è operativo a livello anche professionale e poi c'è chi magari da poco si è cominciato a sentire diverso perché sono 3 4 anni 10 anni che ma qui proviamo a mangiare diverso proviamo a andare a vivere da un'altra parte proviamo a seguire più il cuore che il cervello e allora bisogna anche di stimoli e motivazioni provenienti da quelli che sono i veterani ossia noi perché anche tu Luca sei col pelo bianco quindi vuol dire che hai già un po' di tempo che sei sulla strada giusta chissà che trascorso hai per essere lì adesso è una chi è il divan l'universo che mi ha detto ora è tempo di sei pronto e lo faccio per me ma è il messaggio che c'è da dare a tutte le persone che ci incontreranno perché in te stesso c'hai queste chiave per poterti ascoltare e questo passa con la tua armonia e con la vita che vuoi vivere in questo momento con questa vita e dunque c'è delle cose da non c'è nulla da capire basta solo essere e vivere la vita che vuoi vivere quindi te sei andata a vivere lì tu sei francese ma vivi lì e ora lavori per la proloco locale direi visto che inviti tutti a venire lì l'assessore al turismo per sei mesi all'anno posso stare qua in Bosnia mica male mica male quando poi c'hai un terreno o una casa puoi stare tutto il tempo che vuoi ma questo è ma vi invito a venire a scoprire questo da voi stesso riceverete le vostre informazioni personale di voi ah io vengo vengo eh sì vieni vieni questo è Samir per chi non lo conosce c'era un po' dell'Indiana Jones dei Balcani sì sì due giorni fa si giocava a pallavolo con i volontari e sì c'era anche Bruno no sì c'eri si giocava a pallavolo sì sì c'era anche Bull ma tu le stai facendo vedere in grande in piccoline ah ok sono io questo anche io le vedo piccole le vedi piccole sì mi chiedevo perché forse non so se hai cliccato forse hai cliccato prima di condividere lo schermo mentre è meglio se clicchi prima l'immagine in grande e dopo scegli quella finestra lì da condividere allora adesso sono tornato qua prima apri quello che mostra le foto e dopo ricondividi ma questo è grande direi lo stesso così vedete la pagina grande e le immagini piccole piccole ma se adesso ingrandisco no perché noi tu stai ancora con vedendo quella e le foto si aprono con il lettore delle foto è come se devi scegliere il lettore delle foto l'ho fatto anch'io prima se no non si non ci sono domande curiosità cioè abbiamo fatto un po' generico in flow però se ci sono delle domande sì è bello sentire delle domande e sì c'è delle poi vedi delle piramide dappertutto ah sì che tu sia in Italia in tutti i paesi in un'altra regione c'è delle ah ok questa può darsi una piramide ah questa anche lei poi vedi delle piramide dappertutto sono veramente dappertutto sì anche riconosci la struttura le strutture delle cose le noti anche di più che magari sono sempre state lì però le strutture non le notavi ora si vede grande sì sì queste sono le palle famose sì questa è la vista dall'alto ci sono appunto varie cose che sono state identificate dal sotel sarebbe bello studiarle con radar ad apertura sintetica per vedere cosa c'è dentro questo è il nostro piano queste sono le piramidi principali pare che siano tronche e aggradoni e Visoco Sarajevo non sei proprio comodissimo al mare però lì le cascate i laghi i fiumi cioè fai il bagno meravigliosi natura incontaminata c'è tantissima vegetazione animali la gente vive come cent'anni cent'anni magari no ma 80 anni fa sì c'è una quieto una vita a velocità lenta io sono stato tantissime volte Mostar Sarajevo Medjugorje ma Sarajevo ci sono andato anche come forze nato quando ero nell'esercito non è stato divertente però ero giovine dovevo fare le esperienze e poi sono ben stato contento di esserci stato l'ultima volta ci sono andato in macchina con la fidanzata dell'epoca abbiamo dormito in tenda abbiamo fatto insomma un mondo meraviglioso dove l'est Europa a me piace come vita come velocità come è proprio retro e poi Sarajevo architettonicamente parlando è meravigliosa piena di vita di gente locali pieni tutto costa pochissimo per chi arriva cioè chi arriva da noi e quindi poi le strade le campagne tutto bellissimo certo hai anche lo scotto di un mondo di 60 80 anni nel passato e quindi se vedono che sei turista se vedono allora magari a volte devi un po' ungere per essere più facilitato anche fare quello che vuoi però è un mondo a misura di uomo sicuramente più del del pazzoide meccanico robotico con intelligenza artificiale mondo occidentale dentro cui vorrebbero farci andare con tutte le lusing che ci mettono addosso io sono più loro fanno cose tecnologiche più io voglio andare a vivere nel bosco sì io direi qua la magia agisce ancora veramente la magia esiste qua è accessibile e la puoi vivere la vedi semplicemente è tutto più facile è veramente tutto più facile è un bel posto per le vacanze sì vai a togliere anche delle sovrastrutture che sono moltiplicate negli ultimi anni non hai cartelli queste esagerazioni di cartelli insegne pubblicità sono molto ridimensionati quindi anche onde perché comunque i trasporti non sono così esageratamente come dire non so vedo vedo proprio che riesci a togli proprio delle sovrastrutture quando torni ti rendi conto anche quali sono le sovrastrutture diciamo già io dalla Svizzera andando in Sud Italia ho notato tantissimo ma poi andando in Bosnia ancora di più cioè e poi ti accorgi bene dove invece c'è questa presenza forte per esempio hai molta libertà poi però arrivi al confine e c'è un attimo di ok lì devi proprio fermarti passaporto e lì sembra proprio ancora un regno no non c'è l'Europa passate pure tutti i liberi però dopo ci sono milioni di altri controlli no lì hai molto meno la sensazione di avere controllo la carta di identità è buono non c'è bisogno di avere un passaporto carta di identità o passaporto che è a più di sei mesi prima della scadenza sì però bisogna perché Maristro qui si è fatta affermare perché il suo passaporto era su carta di identità era a meno di sei mesi e non puoi entrare dunque ecco perché il controllo in quel caso c'è ecco c'è alla dogana e quello bisogna ricordarsi anche quando si prepara il viaggio e bisogna calcolare che le volte che ti fermi ti devi fermare e devi fare i controlli tanto che è difficile anche viaggiando di notte comunque c'erano beh di notte non c'è la colonna però per lo meno e anche col bus che adesso ho fatto questa esperienza anche se non è mio forte andrò in macchina con tre posti tranquilli che posso persone che possono venire con me ho usato la parola sbagliata persone magari no magari no diciamo belle anime che vogliono venire con me c'è lo spazio e però sì molto interessante queste cose veramente quando le vivi le noti e la comunicazione nonostante a che parli con tutti ho notato un'attenzione verso la tua presenza no qua cammino per strada evitano di comunicare di farti notare che ti stanno guardando questo evitarsi andare in giro ingrugniti ecco io ho notato più apertura in questo senso disposizione senza avere l'obbligo di comunicare ma una presenza che anche quella mi ricorda quando ero piccola era molto più così quando ci si incontrava interazione sociale ora invece c'è paura ipocrisia chiusura diffidenza sì io ho visto tante volte l'est Europa perché ci sono stato vari vari momenti però quando ho fatto un'indagine approfondita su Medjugorje cosa c'è dentro cosa c'è di vero anche perché all'inizio ci sono andato per una motivazione poi ci sono andato per sette volte in dieci anni e neanche se no ci sono sette volte in otto anni e ho notato che all'inizio la vita le prime volte le prime due volte era veramente rurale bucolica costava niente la vita con un euro tu prendevi la birra da un litro mangiavi con sette otto euro la pizza birra primo secondo contorni l'ostello tutto costava niente era tutto bello eppure era già un posto perché Medjugorje già dagli anni 80 che è conosciuta per quella cosa che si parla della madonna però poi poi è diventata che dal 2012 13 in poi è diventato di un commerciale che i prezzi sono raddoppiati insegne da tutte le parti saune da tutte le parti mettono madonna sull'insegna e c'è anche la sala da bullying della madonna cioè è proprio tutto così commerciale strumentale bancarelle da tutte le parti diventato sembra di essere a Roma e la magia è calata tanto poi la magia non è data dalla madonna perché posso vabbè io ho tirato le mie somme è data dall'energia della gente che frequenta quel posto quindi satura l'ambiente l'aria l'etere di quel posto e quindi ognuno fa quello che crede di fare c'è qualcosa che ha messo in piedi quella struttura e mangia tantissimo di questa energia psichica che viene lì a essere rimpolpata tutto il tempo e ovviamente i locali che dà contadinotti perché lì non c'era nesta Europa compreso lì Visocco la gente vive terra terra perché non ha le balle per il cervello perché lì non c'è niente c'è la natura ci sono le cose serie c'è il pozzo c'è il ponte c'è l'onore ci sono questi ritmi correlati alle stagioni però non è che ci sia chissà che da diventare futili si è ancora che bisogna tagliare la legna che se si fanno cazzate la nomea del paesino ti segue anche se fai 30 chilometri di distanza e quindi c'è un vivere di un altro tipo c'è meno futile ripeto c'è meno futile è un bel modo per noi che ne arriviamo da un mondo isterico e molto dinamico direi iper sclerotico andare lì a riposare i nostri spiriti e ovviamente poi volendo noi possiamo anche andarcene periodicamente a fare dei viaggi alle fuori però andare a vivere lì non sarebbe malaccio il clima è buono il mare è vicino si può avere accesso a tutto ti crei una struttura come si deve ora voi nello specifico promuovete con dei viaggi organizzati di andare lì avete amicizie strutture che alloggino eventuali turisti o gente che vorrebbe venire li portate in giro ci sono guide ci sono invitate appunto la gente ad andare lì perché c'è già qualcuno che crea turismo energetico spirituale o siete i primi voi no c'è tante persone che che lo fanno e dunque a te che vuoi scoprire di vedere o lo scopri da te o lo scopri con lui o con lui o con lui o con lui questo è diciamo cosa ti dice la tua bussola con chi la tua risonanza con chi devi o non scoprire o chi incontrerai incontrerai i suoi posti tutto questo è il viaggio sì una cosa che si può dire forse come energia che abbiamo un po' condiviso scelto che condividiamo è una non struttura no come è proprio veramente più nel flusso cioè c'è chi organizza ci sono anche ho visto recentemente un sito dove allora hai vabbè due ore su quella piramide lì due ore su quella lì la gita qui otto ore diciamo ci può essere una struttura il fatto è che ribadisco e su questo se mi per poi Luca mi permetto di dire che piuttosto noi siamo orientati a non creare troppa struttura perché i luoghi si sanno si conoscono puoi andarci da solo puoi andarci con la guida ma la cosa più importante è andarci seguendo la storia che stai creando la relazione il dialogo che si instaura con il luogo quindi che sia da soli o creando un gruppo in ogni caso anche l'entità gruppo instaura un dialogo con il luogo e quindi restare in questo stato di flusso permette veramente di andare ad approfittare di più di questa modalità un'altra modalità può essere quella io vado con la guida mi da tutte le informazioni e quindi è un'altra modalità non è che uno deve fare tutto il viaggio si può decidere di fare un viaggio di Tot Journey con noi o uno può andare a Visoco e poi a un certo punto dice ok vediamo com'è scoprire il luogo con voi questa può essere anche un'altra modalità Luca ha diversi contatti già quindi ovviamente può essere facile trovare la giusta sistemazione per ognuno però tutto è anche accessibile per il fai da te non è strettamente necessario quello che io ho vissuto dal primo al secondo il terzo viaggio con Luca ovviamente è una diversità perché se il primo viaggio con mia madre è stato un po' difficile trovare dei luoghi perché veramente non li trovavamo e in più lei non voleva la guida quindi è stato ancora più difficile però questa modalità è stata interessante ovviamente la piramide del sole la trovi perché la vedi da tutti i punti altre invece sono più difficili da trovare i tunnel li trovi la seconda volta avendo già avuto la prima esperienza sono riuscita sono riuscita a trovare già molti più luoghi e iniziavano a succedere delle cose però appunto io ero con il mio ex compagno e chiaramente avevamo due energie molto diverse con due risposte molto diverse al luogo quindi il flusso non si è creato così tanto e per me andare completamente da sola con chi avevo incontrato là che aveva iniziato a portarmi nel flusso che è Luca con Norinca e viverlo completamente nel flusso ho detto ok cioè questo è una modalità che mi sento proprio in cui mi sento chiamata che è molto conforme a come mi muovo io anche nella vita normalmente il più possibile ovviamente e trovo che dia quel valore che può che può dare proprio è quando vuoi veramente cambiare un po' frequenza ecco se posso dire così non so se mi sono spiegata insomma come e poi in comunicazione in continua relazione comunicazione no perché c'è anche quello molto importante tu vivi una giornata e si fa magari un punto della situazione perché ti porta alla giornata dopo stiamo veramente costruendo una storia mentre succede e questo è un valore che secondo me vale proprio la pena di di sperimentare ecco però appunto non è è solo per spiegare la differenza poi che appunto non per forza con noi ma la chiamo ognuno la sentiamo da su ecco direi che abbiamo detto esplicato dimostrato ora poi se ci saranno interessi la gente ci contatterà vi contatterà e ebbene così nessuno ha fatto domande specifiche però cosa domandi è un sito che devi viverlo e poi non essendo conosciuto più che stare ascoltare chi c'è stato come voi non può fare io ci sono solo passato però ripeto conosco la realtà di quei posti e sono veramente posti belli che meritano e di cui mi sento molto a mio agio perché mi piace proprio la geografia poi l'altezza siamo all'altezza di Rimini quindi si è comodi al mare si è vicini a Spalato il mare è bello mangiare è bello clima buono neve d'inverno che la neve d'inverno non è più tanto scontata in questo mondo ridicolo dove giocano col clima un sacco nel passato ma quel condorin che è il tuo cognome sei francese questo è un cognome francese un nome d'arte spirituale io mi chiamo Luca Vallini ma sono francese Vallini ma hai con radici italiche si si sono francese e italiano ah che zona della Francia e non abito più in Francia tre anni che sono nomad un po' di Francia l'ho vissuta anch'io nei miei vagabondaggi e la Francia ce n'è è grossa anche lì il posto buono non si trova come in Spagna i Paesi Baschi lassù lì ce n'è ce n'è di cose ah sì infatti ci sono zone anch'io ho vissuto nei Paesi Baschi e la Bretagna e la Francia che infatti già già pensé qualche volta si può anche cambiare vita perché c'è c'è tanti posti da da scoprire che sono molto energetico molto storici sono molto attirato dalla foresta di Brosserion la foresta di c'è veramente tanti tanti posti da da scoprire per ora siamo a Visocco ma si può andare dappertutto a Bruno è ovvio ok tempo di Visocco è stagione di Visocco di sicuro ora è Visocco comunque la guarigione per il corpo passa attraverso la guarigione dello spirito e in Visocco se ci vai con la giusta equilibratura puoi lasciare agire quell'ambiente perché lì attivo non attivo sicuramente le strutture che possiamo trovare lì non sono attive al cento per cento ma sicuramente sono più attive di altre strutture dove giustamente la gente dice c'è una piramide là io ci sono andato ma non ho sentito niente o eri molto sporco o comunque ci vogliono almeno tre cinque sette giorni a volte tre mesi prima che il genius loci di un ambiente ti avviluppi quindi bisogna vedere però a volte certe strutture sono proprio ferme perché non è ancora non c'è ancora la conformazione astrale per farle tornare in operatività chissà quando e se noi saremo vivi per vabbè vivi la morte non esiste ma se saremo qui col corpo per per vedere certe cose prodigiose poi se le vogliamo vedere le cose prodigiose le stiamo già vivendo le abbiamo già vissute e noi che sapevamo che c'erano le stiamo vivendo anche in questi anni che ne sta succedendo però bisogna sapere dove guardare chi è stordito drogato distratto dorme nega l'evidenza ti dice che è sempre tutto uguale che a lui cosa gli cambia sapere che c'è la piramide che va che la terra non è un globo che il tempo è relativo perché tanto lui domani c'ha da andare a lavorare e odia la vita le cose sporche hai toccato un soggetto in quale lavori con l'ipnose ma lo puoi fare anche senza l'ipnose si possono pulire basta quando l'hai messa in evidenza hai già fatto la metà del percorso perché sono cose che non non sono in evidenza nella tua vita ma una volta che l'hai messa in evidenza cosa non va hai fatto la metà del lavoro e dunque poi con l'aiuto tuo l'aiuto di guida e di te si possono pulire a diversi livelli e dunque liberarti di tutto questo catrame dove siamo e di questa prigione che abbiamo qua perché il tuo più grande nemico sei te e questo è un lavoro individuale collettivo ma si tocca a tutto l'invisibile ma che è qua che fa che la magia è tutto qua e dunque sono cose che scegliendo di venire a Visocco con la presenza di Barbara la mia in parallelo con la nostra si può fare tante cose e poi le fai da te l'aeroporto a Sarajevo quindi anche comodo internazionale e a 25 chilometri poi o vieni col tasse o col bus o io o Bob mi vanno di nove posti fa otto più me nove più a Maya dunque c'è sette posti al massimo sette persone crea un gruppo e si fa delle belle cose tutti insieme ma c'è chi va in aero se chi vuole aumentare al limite usiamo anche la mia macchina così si possono fare ma poi scusa poi siamo troppi per fare un bel lavoro individuale e insieme io limito a sette perché poi passa turistico no è una guida spirituale di scoperta di te stesso per fare un lavoro in profondità con le tue chiave che devi attivare e per me il numero giusto è sette otto e nove non a caso nove bellissimo vabbè c'è chi va in pullman c'è chi va in taxi c'è chi va in bici e chi va in aereo io vengo con lo spirito o a piedi o a piedi mi sognerà anche quello è molto bello comunque anche questa connessione quando ci si dà l'appuntamento essendo dilocati secondo me è sempre comunque molto bello molto potente perché essendo che noi siamo connessi al momento che noi diamo un appuntamento anche senza essere presenti secondo me comunque passa molto molto tantissima per me è molto reale più ne parli più gli dai vita come le cose brutte più le guardi più le temi più più le nutri quindi ignoriamo se vogliamo veramente allontanarci da qualcosa di sbagliato non dobbiamo più dargli attenzione in compenso le cose valide vanno nutrite vanno dette e te vi dici non possiamo dirle coi vicini di casa se vivo via in Svizzera perché di che parli non ti guardano male allora parlane con quelli che puoi noi ne parliamo tra di noi e facciamo serate di sto genere per aggregare ancora quelli come noi e quindi siamo sulla strada giusta va bene direi che per stasera abbiamo dato se qualcuno vorrà ci contatterà capiterà di fare qualcos'altro in futuro assieme neanche su altri discorsi ma sempre concernenti questa realtà che è la nostra vita e lo spirito e niente perché crei la tua realtà e dunque se dai intenzione a qualcosa che in media tutto quello che passa entra nella tua realtà se non gli dai intenzione non alimenti questo frutto e non è nella tua realtà grazie per tutto immagina puoi devi va bene grazie di tutto Luca è stato un piacere Barbara sempre splendida fiamma grazie per esserci sempre anche tex sotto sotto bruci dentro ognuno di noi fiamma sempre alta e niente Mattia Bruno grazie per l'intervento tutta gente che più o meno conosco se domande non ce ne sono ripeto noi quello che sapevamo vi abbiamo buttato lì più di tanto non abbiamo approfondito perché in queste due ore che già sono due ore e mezza quasi anche per per far assorbire quello che è stato detto non si può troppo accentuare ma tanto non è un percorso non è non è un allenamento non è un corso non è un periodo è uno stile di vita quello che facciamo per questo mantenersi puliti nutrire il giusto avere frequentazioni e relazioni sane poi ovvio che se semini bene raccogli bene ci vuole tempo e quindi è uno stile di vita e noi siamo qui a nostra età a non essere più dei giovani fantasiosi a poter dimostrare che a 50 anni 50 anni non so quanti ne avrà Luca Barbara anche lei sembra sempre giovinetta col suo faccino angelico ma ne avrà anche lei quasi 40 e quindi noi siamo vivi dentro anche quasi 50 siamo tutti così ma io ne ho 26 dentro sì spiritualmente ho 53 1600 53 ma non si conta più chi li conta più non si conta più va bene ciao buonanotte è stato bellissimo grazie ancora grazie a chi ci ha ascoltato e chi ci ascolterà noi ci ascolterà io volevo ringraziarvi è stata una bellissima testimonianza e e niente secondo me è già la seconda volta che mi capita sotto mano un viaggio organizzato e penso che ti chiamerò Barbara nei prossimi giorni magari così parliamo meglio molto volentieri sarà un piacere grazie grazie mille ancora grazie Francesca anche io ringrazio sia Barbara che Luca e anche per le testimonianze e anche Cristiano per aver organizzato questo incontro io nel frattempo ho smanettato un attimo e ho trovato il canale di Luca su YouTube se volete lo condivido però chiedo a te Luca per me è ok con piacere ok allora lo metto qui nella chat come si chiama questo tuo canale YouTube indovina condorinca è che altro condorinca condorinca si 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 appena perché appunto sono sempre testimonianze dirette nel luogo è sempre questa qualità che emerge in teoria dovrebbe essere già o no vediamo non ancora vedi non ancora ma pensate devi schiacciare la anch'io a volte digitavo e schiacciavo enter invece devi schiacciare quella freccetta eh eh sì perché se schiacci enter vai solo sotto è coperta da un qualche cosa per cui aspetta che vado giù è solo sotto tra che c'è ok è una bella qualità fiamma la curiosità eh ma su quello guarda sono sempre stata curiosa e infatti mi ha salvato tutta una serie di volte della serie ecco qua oppa fiamma infatti sentire la tua voce tanto che non ci sentiamo eh infatti ci siamo fatti dei bei viaggi sì 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 ma ogni tanto è così ah sì è così sì ci si ritorna ci si è così è così anche la libertà no? alla fine ecco siamo tutti molto appunto riconoscenti trovo no? di di questa cioè ci riconosciamo lo stesso c'è sempre questa questo flusso queste belle relazioni questo è un bel valore grande posso fare una domanda? sì sì a Cristiano prima ha sentito qualcosa riguardo il scannerizzare le piramidi con il radar sintetico ho sentito magari probabilizzarle di scansionarle magari lui saprebbe sa dirmi quando è in programma questa cosa? provare a chiedere non lo so non ho idea credo che abbiano già dei progetti in piedi che devono comunque mesi prima prenotare dicono che la prossima cosa che vogliono fare non mi ricordo cos'è che han detto perché non è che seguo tanto però ogni tanto mi mandano ascolto e connetto con quello che già sapevo quindi anche se però comunque se non loro qualcun altro anche perché poi loro mi sembra strano che una tecnologia del genere sia così mainstreamizzata e con quei termini cioè se fosse realmente che se ne parla così non glielo parebbero fare quindi secondo me c'è anche un po' di portare la gente a credere che il cambiamento è sempre dietro l'angolo invece non cambia mai niente se ci fate caso se non cambiate voi per voi non cambia mai niente però però le prove ci sono anche senza senza vedere dentro con questi video che ti dovrete fidare di quello che ti dico con loro sì tante volte si cerca sempre questa certezza in qualcosa che comunque ti dice qualcun altro dando per scontato che questa scienza si sappia qualcosa meglio di te no? ma siamo abituati così quando alla fine cioè noi siamo l'antenna ne abbiamo parlato diverse volte Cristiano Luca eccetera per primo mettiamo noi ci mettiamo più in discussione di quanto mettiamo in discussione la scienza ma non è detto che la scienza abbia più sia un'antenna migliore di noi stessi anche perché non ci sono prove totali non ci sono fatti ci sono solo interpretazioni di fatti malanga piuttosto che chi mi dice che ne so il cervino è una piramide è vero non è vero gente sui social che litiga perché mettono il mainstream e mette in giro l'idea che potrebbe essere un'astronave parcheggiata da molto tempo una piramide triangolare il cervino è di cioccolato è di formaggio che cos'è il cervino chi ti vive lì dice che il cervino è un cazzo di monte e invece su internet per anni si pompano le cose e la gente ha il dubbio ma il cervino è davvero il cervino e te cosa te ne fotte magari te vivi in tibet oppure ti vivi la tua vita come noi che il cervino c'è o non c'è se io mi sento connesso ora nessuno ha mai visto né la rupe negra né il monte Kailash né tantomeno il monte Meru oi te dici la rupe negra e il monte Meru sono la stessa cosa né perché il monte Meru potrebbe anche essere fisicamente lì nell'Himalaya però noi che non ci sentiamo connessi attratti da quella cosa mentre altri nel mondo sì noi il cervino non ce ne frega niente la tartaria fino a un certo punto la terra globo di certo non è un globo ma di che forma è non mi interessa perché tanto non lo saprò mai e di certo non mi fido se fanno una foto o se fanno il telegiornale che dicono che l'hanno scoperto è dichiarato che così ci sono le prove chi ci crede quindi dobbiamo un attimino avere la nostra di sensazione che non deve essere una convinzione deve essere un sentore di certo io non mi sento che sto andando a milioni di chilometri all'ora in quattro direzioni contemporaneamente questo non lo sento quindi a me quelli del Ciga non me la fanno bere poi che noi stiamo in un piano sicuramente è pianeggiante ma non è è sicuramente circolare però poi io ho la mia teoria che ho spiegato ho spiegato di recente sì quando ho fatto con Daneroma recentemente una live dove parlavamo della forma di questo posto e quindi la certezza di qualcosa non esiste non la possiamo accederci se non tramite quello che noi sentiamo comparato in maniera armonica che non abbia un dogma che non abbia una una forzatura o un'illogicità con quello che però constatiamo quando ci interfacciamo con quella cosa di cui è l'oggetto del dubbio per esempio se mi dicono sotto il Vaticano ci sono quegli archivi segreti chissà cosa c'hanno io di mio posso avere un sentore loro quello che hanno non me lo faranno mai vedere ma se anche vado sul Vaticano come ci sono andato e ho guardato e ho sentito ho visto quel poco che ho visto mi fa pensare che quello che hanno là sotto sono le loro malefatte i furti che hanno fatto in più hanno fatto una leggenda urbana ha fatto diventare che loro chissà cosa c'hanno là sotto e alla fine noi sopravvalutiamo la situazione e quindi a me non me ne frega niente l'idea me la sono fatta non sono attratto dal Vaticano sono più attratto da Visoco sono più attratto dall'Himalaya sono più attratto da tante cose io voglio scalare l'Everest appena c'ho tempo cioè tra le altre cose che ho da fare e quindi il Vaticano a me non me ne frega niente anche perché è roba ad altri quindi l'area 51 chi se ne frega non è roba mia in compenso sono attratto da altre cose voglio andare in Romania voglio andare in Transilvania voglio andare sui Monti Bucceci anche lì ce n'è di cose strane anche lì ce n'è di roba togli là il video che noi sentiamo togli il video Luca così sentiamo perché c'è delle cose da fare laggiù nella foresta di Oia Baci c'è tutti gli alberi storti non abbiamo sentito niente Luca riparla e togli togli la immagine sto pronto per andare in Romania eh anche io sono attratto dai Carpazzi sono attratto sì sì e tante cose da pulire laggiù anche io voglio comprarmi un dirigibile e farmi giro in tutti i posti che mi piace che mi attraggono e di certo non vado in Vaticano va bene dai e comunque Bruno chi è che ha parlato prima a proposito del radar se arrivano informazioni se arrivano esperienze li aggiungo alle esperienze che ho già però di mio un po' che non posso fidarmi della tecnologia un po' che non mi fido del mainstream che mi permette di vedere la tecnologia di quello lì quello lì tanta spiritualità tanta esperienza tanto quello che è io la sua storia recente e anche passata l'ho un po' analizzata perché in effetti è l'unico che parla per certi aspetti di quello che anche io ho constatato nella mia professione quindi come aduzioni interferenze servizi segreti cose varie però non posso fidarmi né di uno che ha vissuto di accademica tutta la vita sto malanghe è bravissimo però a me è malato è vecchio è cittadino mangia carne e ha fatto ha lavorato per il sistema tutta la vita e ora solo perché dice le parolacce come le diceva chi è che le diceva cioè ogni tanto permettono alla gente di offendere pubblicamente il sistema che se lo facesse chiunque altro verrebbe censurato e invece c'era quel dottore che insultava tutti che ora non si sente più che parlava male dei vaccini che era italiano quello lì non mi ricordo chiunque si chiama lui e la moglie e ora c'è una langa che dice queste robe ogni tanto il mainstream permette a certa gente di diventare un po' delle icone della controinformazione però secondo me è sempre dissonanza controllata quindi come è che si chiamava quel Montanari 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 e Galli la moglie poi ci sarà ancora magari però io già che non vedo niente però prima era veramente da tutte le parti oh lui sì che dice le cose come stanno sì ma te che le ascolti già a me non me ne frega niente perché a me non mi serve che Montanari dica le cose perché io non ho quel problema non ho la vita che produce ipotesi di avere quel problema e bisogna e guarda il caso non era neanche medico dottore medico farmacista me personalmente mi sembrava solo uno che avesse voglia poi di creare un partito politico ma come malanga poi dicono di no di no di no poi te li propongono anche Grillo non voleva fare niente poi ha fatto da estetica per chi ha fatto il partito politico ed è stato peggio l'ultima cosa che hanno fatto questi qui del Cinque Stelle piuttosto che quelli prima che per quanto erano brutti i danni che ha fatto il Cinque Stelle non hanno fatti quelli prima quindi bisogna anche vedere tutto il complesso il disegno di insieme la politica è morta ognuno deve pensare a se stesso i gruppi solo tra i tuoi simili non puoi fare collettivi troppo grandi se no ti disperdi anche perché l'interesse di ognuno non può essere quello di di un numero troppo elevato di individui comunque non usciamo di tema la tecnologia se ci aiuta con informazioni bene però i radar i telescopi non lo so uno smanagic credo già di più nonostante anche lui è uno che che si mette in mostra però non è supportato dal mainstream e anzi stato avversato da tutte le sovraintendenze archeologiche che puoi incontrare e infatti avevo sentito anni fa che avevano chiuso i tunnel non si potevano andare volevano intervire per motivi storici piuttosto che di sicurezza e ho detto a te lì che hanno già chiuso le piramidi invece invece a quanto pare non è successo e allora e allora è facile che vada a vivere sull'ombre anch'io lì dai chiediamo davvero stavolta col sorriso di Barbara e Bruno col pollice boh buonanotte a tutti è stato bello ci vediamo ciao ma non con l'orecchia ci sentiamo proprio ciao buonanotte grazie a presto un abbraccio un abbraccio un abbraccio stavolta stavolta